Grazie. 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 Non è un problema. è un amore di amore di amore Laia'lamuhunna kathirun minalnaas Faman ittaqa al-shubahati Istabra al-idinihi wa'ibdihi Waman wak'a fi al-shubahati Wak'a fi al-haram Karra'i yara'a hawla al-hima Yushiku an yarta'a fi Ala wa inna li kulli malikin hima Ala wa inna himallahi maharimu Ala wa inna fi al-jasad mudha Ida saluhat saluhal jasadukullu Wa idha fasadat fasadal jasadukullu Ala wa hi al-qan Ravagul bukhari wa muslim یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے جو تین باتوں پر مشتمل ہیں تین باتیں اس میں ہیں اور کئی باتیں اس میں سیکھنے کی ہیں سب سے پہلی چیز تو حدیث کے الفاظ ہیں ان الحلال نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نومہ جن کے قنیت ابو عبداللہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حلال بیین ہے حلال واضح اور حرام بھی واضح اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں مشتبہ ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کا حکم واضح نہیں ہے جس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حلال ایک حرام ہے لا يعلمہن کثیر من الناس لوگوں میں بہت سے اس بارے میں جانکاری نہیں رکھ رہے ہیں لوگوں میں بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے فمرتق الشبہات تو جو آدمی ان شبہات سے مشکوک چیزوں سے بچا شک والی چیزوں سے بچا استبرع لدین ہی وعدہی اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچانے والوں میں سکھو گیا ومن وقع فی شبہات وقع فی الحرام اور جو ان مشکوک چیزوں میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوا جو ان مشکوک چیزوں میں پڑا جس نے ان مشکوک چیزوں کا ارتکاب کیا اس نے حرام کا ارتکاب کیا وہ حرام میں واقع ہوا E'יז che è un esempio della scena che è un greeting in cui è un gruppo che è pieno di un gruppo di cui sia un gruppo di cui il gruppo di cui è un gruppo di cui è vero. che è stata la sua insomma che ha si hanno una cosa se l'assimo se l'assimo si è una cosa se l'assimo se l'assimo se l'assimo se l'assimo se l'assimo se l'assimo caldo perché nei commenti che hanno chi bella sulla sulla viola e la viola, la viola e la viola. con delle quelle condizioni che è giù che di felino ha viola, la viola e il percentuale. Volverà il potente, la viola è una viola, questa è inizia che non si potesse. Voi che fai la viola, la viola è una viola e la viola è semplice. quindi il nostro corso di un'amore e il nostro corso di un'amore. quindi questo è un'amore che sari umpiti non è già un'amore ma che chi ha? non è un'amore non è un'amore ma molti sari ragazzi sono che hanno in questo modo che hanno un'amore ma non è un'amore ma alcuni ragazzi sono che hanno un'amore quindi si ci hanno che gli altri che gli altri due cose sono un'amore che è un'amore Il corso di corso di corso di corso che hanno costoso ci sono che giù non stava lo che donne e la donna e la donna che ci ha che النuppa che è la sua vita e la sua vita e la sua vita. in questo caso che bello molto probabilmente, è vera. Si è vera, non è vera. Non lo vediamo non è. Il fatto che si arriva. Se vanno il fatto di quello che si arriva, per fare questo qualcosa di attivare, nemmeno o meno di quello di fare, o altro, di fare ciò che altro, non lo so, ma che per il fatto di questo, non lo so, se non ci si avvile. Non lo so, per il suo lavoro. A loro il ilmone. ... Il darumico. Il sono ci chiedere quello che. Il dino. Il dino. Dino. Il dino. Il dino. Il dino. Il dino. non ci sono quasi che ci sono state che ci sono state che ci sono state ma nessuna ne hanno non ci sono state ci sono state e ci sono state quindi ci sono state ci sono gli occhi che saranno si è stato per il nostro corso Perché? questo solito che non lo conosco, ciò che ciò che va sveilare, ciò che ciò che gli affonti, perché è lui? per questo gli effetti che il conoflore, in cui si può riquire un'ascolto, gli affidanti. perché non lo conosco è che è il tuo avimento che l'amore è il suo figlio di, si su amiamo abbessare, laenixa si è il suo figlio di, mentre l'amore è il suo figlio di, magari l'amore, è in cui abbessare l'amore. è un uzzettino all'allà ma la gente sa un uzzettino nonoste si è bucattino nonoste la sua è giusto nonoste è un uzzettino guardato dove ne nonoste 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 che nonoste 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 un uzzetto qualitat nonoste qualità Apponati adalati Si affattati, di Dio 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 la sua vita Dicchieti che ci sono mi dara questa situazione perché si è in un senso che mi dara dà ridotto e si è in giudice che mi dara questa situazione che ci sono in te parole che ci sono in teore e il senso ci ha e la sua e la sua di che è una cosa che che sia in teore che non è in teore si è in teore che ti ha avizzo e la sua persona che è in teore che gli altri Ma al amora che il giù ciò che ciò che è necessitiamo, che ha un'esatto. Il gioco è un'esatto, è un'esatto. Il gioco di loro, piacere di��olò nei miei mei presi circumstances, non è una cosa, sono l'esatto. L'esatto per un uccanere l'esatto, è un'esatto, è un'esatto. Il gioco di tre quando a prendere una cosa, è diversa. L'esatto, è un'esatto, è違ato, è un'esatto. È un'esatto, è una solutions. quindi disperse l'ambiente anche le previsione dice che che ha che ci hanno di tendere e'l'ambiente e'lambiente 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 che ciò che ciò che ciò che ciò che ciò che è una una parte di bordo di per la vita in un progetto questa attrazione è un progetto che ciò ho che fuori al nostro in un progetto che sei in un progetto in un progetto in un progetto in un progetto e una non 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 ha ma guarda l'iscriviti va e era ha c'è stato Sì, è inizzo quasi, è inizzo, è inizzo. Ora questa cosa che è inizzo, dice e ha inizzo. Adesso tutti quei abriamati, cosa di questo? mi ha detto inizia mai sessi non è così ma non è il fatto che non è oggi perché hai fatto che non è così che il corso di attraverso che abbiamo parli che ha non è il corso che si è un cibo si è un pozzo che si è un corso e un corso ti è un corso che è un corso e un corso che si sono che ci sono si sono disciplinati non si è mangiato non si è venuto non si non si è venuto se si è venuto qui si è venuto non si è venuto se si è venuto perché il bennino è un bennino che si stava si è venuto guarda non 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 è Grazie a tutti. quando si chiama la gara e il brio non si chiama la gara e il brio è un momento quando si chiama la gara e il brio è piacere anche qui si avessi è difficile, ma sarebbe così, è una cosa che è difficile, così se si chiama la gara si chiama ad ammè la gara e si chiama la gara e si fa bene, si chiama la gara è e se il gioco il gioco il gioco il gioco il gioco. che ha il nostro corso che ha il nostro corso ci si faccio non si non è terà il risultato non si non è terà il risultato non è terà il risultato attraverso il risultato al solito non si che doi un risultato allora l'assistino si che doi l'assistino l'assistino ciò che doi il risultato C'è chi ha? che ci sono quali l'alto e l'alto che lo l'iscono e lo l'iscono questo è un risultato che c'è recommendo che che ha l'al e il haram l'acchiettile allah può è che c'è sono delle cose che ci sono che ha che non sa si sono si è che il mondo sia che è che c'è che c'è che è che c'è è stato chiamato l'acquilla 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 non si non si non si ci sono che ci sono alcuni ci sono che la 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 che il sogno è un altro motivo non año il attacco di attacco e così come per altre cose il ragazzo della mia con gli auguri non mi hanno opposto opposto e e opposto quindi è che che ci sono gli amici Ora mi diceva che sia stato più di farlo che ci si sa cosa ne sa più iniziose non è così non è la mia che non è così è così che il bambino non è mai fare che la la maluca è cosa che già fare non è il bambino la tua tua vita non è il bambino non è il bambino è un bambino e l'abbino la mia l'abbino alla l'abbino il nostro corso che ho sopito ma voglio ma cosa ma cosa ma music haram mausitì haram allah maalik è es ricordo non non c'è 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 nel quattro ma migliore cosa che non possiamo faranno tutto quando rim Annunque. Non! Ha detto se non capire, si non capire, non capire. Si che abbiamo sfruttato, questo mi ricordo di guarda di tre sfide e ciò che è un pozzo! Si tu lo abbia non capisce capo! Inizia a darmi sensibilmente! Adesso Adem Alessalamo, il pubblico di farlo iniziare non capisco, non capire! E mi ricordo nessun sacco non capisce! Ci sono stati di un'essuale. che non fa la nostra è l'ado è bello la 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 altro non hai non 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 La caglia ci si è importante Ci sono delle cose che ci vanno Caggiamo di solito Ci sono noi qui ci sono Le tigioni la marketing la nostra è di solito Gugli 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 La Gugli 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 Alla ha ne usco managherà Isse lì ho fatto Che cosa è? Dicare 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 Quella Dicare Dicare questo è vera ma è stato fantastico ma non è così non abbiamo fatto ne hai, è un'ambiente una squadre questa ammuntante è un'ambiente è un'ambiente è un'ambiente non è possibile in questo senso non si sa è stato è usato quando si è B famiglia di farzekname Cosa ragazzi don域 Tamo avuto Alla che guardate e prendere o guardate e guardate questo ciò che l'allè ha corintholino che ha fredato non lo soffi e non soffi che si che . Allà il corso di questo, se ci sono le lettere, è giunnamo quindi qui è il corso di questo che questo è quello che gli ha legati, il corso di bello, è il corso di essere se se non si vede, se si vede. Il corso di di essere il corso di un corso di corso di cammino, se si vede si bella si è il governo che proviamo la spiare la capdata che la si è il bale si è il bale la capdata il bale questa è la che ciò che ciò che ciò che dice una cosa che ha ha capito Il nostro corso di QTSS di cui mi chiamano e ne chiamano cosa chiamano dove ci chiamano dove ci sono se ciò che mi dottava mi chiamano come si è mi chiamano si ci sono non c'è si è il suo che non c'è il dill non c'è si 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 ... questa è la sua questo è il d'amore principale, che il d'amore della corrazione di Dillasi relaia abbida e il manore e il dono e il manore della corrazione di Dillasi sta dentro di Dillasi, di Dillasi, di Dillasi bandhunga chiamat che in l'Ella ha detto che era chiamato i l'anno la yenffi amalu e la bandhungo il l'anno atta allah biqualb salim acting la cosa è l'Ella ha davvero un bel e l'e terra cento e l'ebbio è che l'ella che l'ella 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 che sia un'altro che si avrebbe il stadio quando si traspio quand si riesgav sabia per parlare si arriva один si Hafsiум se l' viable si fer Ora è qui il momento che anche un po' di nuovo clamoramento che sa che ci sono stati addositi e gli autori e gli autori che ne ha di qualificare e alla fine l'allakum tattakoon rosa tà che tu abbaz aò tà che tu abbaz perhesegare ben giallo nèkio se tiqua pèda alti baz nèkio in una khas tiqua ki tiquiat è e poi quando tiqua badhtà è allora gli amati e più quindi questa è questa è una razzata qui si vediamo ad un amico prima di giù in un gioco si è giusto Grazie a tutti. e poi aia di essere di loro anche per lo stesso che si sono andati si sono andati come si è il momento che che ha ha il calc è un'attimo che è un'attimo non è un'attimo è un'attimo non è un'attimo ma è un'attimo ma ad allah Laurò Allah'llá della allah casa allah la mia �atata la allah 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 Il nostro canale, il nostro canale è stato il nostro canale. e la sua propria nella solita per l'escrizione uma per qualuare veρά c'èflower una giusta un sano un santo secondo che di che fare un santo è forse su cor due ad amici i amici i diceriti vi hanno ditlando i loro bisogni diesiliano che quando si succedono dopo tutti i ricc regulations per riduz Julian li si chiedono e si risaco l'ammaricare la allano si accresa l'ammaricare l'ammaricare si accresa che ha aspersi Diciamo Moussa a s.a e Alberto inks Che un D'Avdo V'Cule L'Avdo Quelll Si Mucke L'Avdo Ghor Fikr Naciyhet L'Avdo L'Avdo D'Avdo L'Avdo E'Avda S.L.I.E. S.L.E. Di Beg'de S.L.E. admi bia Allah si drenne avola benza è perché quano un insano un chattacchio ròpata è ma la sua richiesta è un che si è gioco ròpata che ciò ròpata è che non ròpata è che non ròpata è quano un si è che è quano che è che ciò che è questo è che la nostra ròpata è che il ròpata è che il suo che è che il suo che è che non è che non è però ma che ti non li conosce ci sono stati che si è un amico che viene in cui lo soano che non guardate non guardate non guardate non guardate non guardate non guardate è un nuvole questo è possibile quando si è quella di dir�are che l'innasco che l'inanasidore non guardate e l'inanasidore è la il metà che la dilla è la thinka che l'innasCO se lo sessi se lo sessi si è così il corpo non sia la scettiamo molte si è l'acquitto l'acquiette se si è lo sussi inizia quindi che ci sono che ti ringerio di farlo ma l'aggardo si chiama mi chiamo chiede ma l'aggardo questo settore io ho avuto tutti i raggiunghi si chiama che il raggiungo che il raggiungo che il raggiungo che il raggiungo non si chiama quindi non ciò che ci sono e ciò che è il nostro corso non c'è che non c'è الله di qur'an del corso e mi rita che la la tro ciò la qui ha 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 ciò 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 una cosa ciò ciò 1.1.2. in questo caso ma non è ma non è un problema ma non è un problema si ci sono se ci sono e un problema si ci sono un problema mi ha un problema una cosa una una persona non è un problema non è che due ho un'altro, non è come? Questo perché in cui è un'altro che quindi si può mettere un'altro che si è giustare. E' un'altro che si può fare una volta, non è avanti di lungo, di zina, oi, 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 oi. Questo è stato ciò che mi ho fare, per quanto si è tutto il giusto, è il giusto. non no non mi piace mi piace mi piace se si è un giusto si si è un giusto è possibile se che l'abbiamo si è il giusto che si è il giusto non è un giusto non si è un giusto che ci sono e la domanda questo è il giusto E questo è il caso di questo. e i fiori stessi e i fiori stessi che c'è il mio amore, mangiare lo l'uzzieno nella loro fila e dell'ard lo l'uzzieno nella loro fila che c'è il mio amore, perché il mio amore ha il suo quindi il mio amore, che c'è il mio amore, lecchite ma di orviqere, la tua capa, la tua scuola il mio amore, le dottere, il mio amore, la sua giustina che ciò che ciò che ciò che ha il ci Genio, il Si raffa, il si dice di oppure kidi piaccato, il il Gio di questo, il il Gio, a un Gio, il Gioру si per il Gio chiamo, sono con l'assi del Gio, rimanze senza inciteriene, non è con il Gio, si con l'assi di Nio, si con il Gio delle allahe dice allora ha? indo cioè e dice qui si non lo continui non fa ne sono si ci sono sono i ci sono ci sono che abbiamo che sono ci sono ci sono i ci sono abbiamo ci sono non non per lui che è li nelle trucks ne rimane non che è st around e non sau le abitati старò farlo il l'altro for la t'attadou il l'altro è l'altro è l'altro la ma 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 il è ma ma non fare, ma non fare. lo marizia musica dragite con la TRK secondo buon tule mágico hit hit vacero si adesso sai la sta sono o'anque zuban su sanno a quando si questo è un pozzo per due diligence che il giro il giro il giro il giro il giro il giro. owski appo 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 per rughnare le attacca a fare in un danno quando si in un attacca perché il polis qui è in particolare non è questa di essa è una scala che si sta in un attacca che è un attacca che aveva un attacca si è un attacca di guarigione ma questo è un attacca ma le bani che hai che tu allah che alla che si che 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 allah 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 lo ... Inoltre 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 inoltre. Inoltre 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 inoltre. Inoltre 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 inoltre. Inoltre 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 inoltre. Inoltre 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 inoltre. 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 Inoltre inoltre inoltre. Inoltre 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 inoltre. Inoltre 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 inoltre. Inoltre 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 inoltre. Inoltre 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 inoltre. nella Twerdà ma prima che superi è stata in eina in un' страх senza capito lo schiego è in un'esity la nostra è in un'esity allah fra allah allah il rukis è in te sarà in un'esity allora ciò 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 abbiamo勸giato lo si in un'esity è in un'esity che è Ibn Iوس al-Dari R.A. Anna Nabi Sallallahu Vallaihi Sallam A'l-Dinu Nasiha Qulna l'iman Qala lillahi Wa l'kitabihi Wa l'rasulihi Wa l'aimati al-muslimin Wa ammatihi R.A. Abor Uqiyah E'e kunyat è Sahabie giunica nama è Tameem Ibn Iوس al-Dari Tameem Dari R.A. Inse rewaite te firmate hai Alla ki Nabi Sallallahu Vallaihi Sallam Ne rishat firmaya Ad-Dinu Nasiha Din Nasiha Din Nasiha Din Khair Qahi Din Bhala 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 Dins Bhala Dins Bhala Dins Bhala Nasiha ki bilmukabil Ulmah Dins Bhala 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 Alla che li ho Wale kitabihi Alla che la kitab che li ho Wale rasulihi Alla che l'asul che li ho Wale aimati al muslimin Musilmano ke imam Musilmano ke imam O'ammiti E'am musilmano ke li ho Is'i riscoo Imam muslimo nè ribaid giallo To kiske liền nusiyat Nusiyat hai Alla ke liee Kitab ke liee Ressur per il tutto Poi torniamo Orano O sottotitoli Quello che mi riman ha Ollare Ollare Chiamo Quinto Vediamo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it 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 www.mesmerism.it Polso gratuito è www.mesmerism.it Noniva e che ci sono i risultati e lui una porta di risultotoर un'è 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 sicuramente che ho visto che ha tu hai che ha hai ma nessuno che crede vai benvenuti una cosa che devo una vostra e la � người che hanno si la Atlantic e la di abbiamo anche piccati ad 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 Вам accadina attraverà all'iscrizione all'iscrizge all'iscrizgi all'iscrizione all'iscriz sca all'iscrizione allora che fare e nissihe al-Aimati a'ima kì nissihe muslimi che ciò che ha che muslimi che è imam che è muslimi che ha che ha ha che ciò che è che è a yutì'a fino al-haqq non so si non so il primo è un ma 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 Inizio che se si che non si ha fatto questo, se ciò che si ha fatto, questo è un suo autonomo come. E non non si lo ha fatto. E non si lo ha fatto il suo diritto, se si lo ha fatto il suo diritto e non si lo ha fatto il suo diritto. Quindi, Haakim, perfetto. Ma se è vero. Ma se è vero che, questo è un vero che ed è un vero che e aveva soprenza e aveva soprenza se potrenza se potrenza e si potrenza e ci fa si potrenza e pensi e pensi e pensi e pensi un po' non si potrenza e abdhan habishiyen si sono un sennò e rimane si è chai un uomo o che uno ha abdhan quindi gli uomini che il uomini o che il uomini o che il uomini si è un uomini se si è un uomini se non è un uomini se non è un uomini se non è un uomini questo è un uomini e il uomini ha una sua e un uomini che dice che città frate cosa dice che mi rinca se recenderemo se mi rinca se c'è lo sopare si d'escriviti che abbiamo deve essere che ciò trade che ciò realmente questo non è mi piace come si è questo è ma ovomio che non è il nostro corso che il corso che lui con il corso e l'aliyah e il corso che si non è si si non è possibile questo è il corso che il corso che il corso e il corso e il corso che si non è che gli dottini di farò non è che che non è il corso il corso haakim per l'abbiamo per l'abbiamo è molto più grande un'azolimato che sia più buona è più meglio che loro per non lo haakim non ho perché lui haakim ma d'abbiamo ma se si chiama e se si chiama e se si chiama e se si chiama ogni uomo ogni uomo è un uomo di un uomo si chiama si chiama per l'abbiamo che non ciò che non è il fatto il fatto il fatto di fare si avanti con il fatto tutto questo ciò che ha avanti in questo caso ciò che più come ciò che in più è che hanno richiesto che hanno avanti questa cosa è questa cosa giù è una cosa giustica è una cosa giustica che abbiamo qui iniziò ci sono se si è giusto non ho e poi faccio anche la 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 Grazie a tutti. 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 in questo modo quindi questo è il suo risultato è un po' di più qualche cosa cosa è che si è stata questa cosa cosa è questa cosa è questa cosa è questa cosa è questo si è questo quando è questo gli altri se 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 non si si è lui 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 R.A.R.A.R.E. Umer Ibn Khattab, R.A., ha detto, abu bin Ziddiq, si è che ha «Cai fa tu quattro al nasa? «Quale R.S.A.V. «Amer tu an'u quattro al nasa? «Hattà yacol la ilaha illa Allah. «Fa man qaala la ilaha illa Allah. «Fa qad asama minni ma l'ahu wa nafsahu «Illa bihaqtihi «Wa hissabu ala Allah. «Ap kiasi quittàl «Cai fa tu quattro al nasa? «Aqrar satcha hai, jhouta isa am Allah per hai. «Fa qala abu makrim «Wallahi «La uqaati lanna man farraq «Beyna assalati wa zaka «Fa inna zakaata haqqul maan «Kaha ki Allah ki qasam «Mai us insaan «Se un logon se quittal «Karunga «Jo namaz «Or zakaat «Mein fark «Karang «Namaz «Padhe «Lekin «Zakaat «Dene «Se «Inkkar «Karang «Karang «Padhe «Lekin «Zakaat «Dene «O Enkkar «Karang 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 «Uni «Lekin «Una «Mal «Karang «Una «Fa im «Panhe «Mali «KS «Karang «Martin ««ults «Karang « Games «Zakaat ... ha detto che chiamare un po' di cosa che ci sono riusciti e che ci sono perché questo è il mio ma l'islamo è che è è il mio ha ha non è è il mio è il mio ma l'islamo sa come l'umar l'umar quando l'umar 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 ... e che gli amici allah ke rasul sallallahu alaihi wa sallam appone robb ke paz gai e se musa alaihi sallam musa alaihi sallam gai e e poi vaapas ake munafico in giardini marati e dana bada salmah che chiede okey si parla si parla un co siddiq radiyallahu alaihi wa sallam aai masjid mi bittanene mi bittanene mi bittanene non bittanete aapne se out of control ehi bittanete unco chup bittanene ki kojish ki nye sulta khud mimber pere chad gaya abu krisiddiq radiyallahu alaihi wa sallam aur os wakt me kaha man kana ya'bud muhammadan fa inna muhammadan qad maant wa man kana ya'bud allah fa inna allah hayu la ya'bud joh muhammad sallallahu alaihi wa sallam ki abadat kata ta wajan lhe kye muhammad sallallahu alaihi wa sallam ki afat ho gai maat ho gai or joh allah ki abadat kata ta to moth nye aane waaliyah aur ayat padhi inna ka man yitun wa inna humma yitun ey nabiy aap ko bhi moth ani hai aur ye bhi marne waaliyah omar amin khattab radiyallahu alaihi wa sallam jambi minne ayat sunyi mujhe laga goya ki abhi nazil huyi is pake zahir meh ni tiya ayat sadhme se ya ayat zahir meh tiya unke padhani se imko yant aai ayat kata mire kadam mirea borgh nye u'tha sakti ayahsas us wakht bhi bilkul mzboothi kisaf qayim te abu karasiddiq radiyallahu aad dursera imam aab ima qayim jahan abu karasiddiq radiyallahu ta nye baat ki ye bhi mongkah kye jahan kaha rasul sallallallahu alaihi wa sallam ke zamane meh ager woh rasih bhi dhete te woh bhi usul karunga aur is wakht عمر bhi khattab radiyallahu nye narm thay kakalima padhti kisya jahan karunga ya mal ka mal meh allah ka islam ka hak hai unse liya jahe meh liya jahe gah hadith se hadith meh khud hai que woh namaz quittal ka hukum jeb tuk que la ilaha illallah muhammad rasul kaya karar karer kaya do namaz kaya karer tine zakah tada karer unke paas yere riwayet thi jis meh ziyad tiy ziyad alim abu bakar siddiq radiyallahu ta non sur is guys hadith hadith e non ciò che aveva che appena ciò che che ci sono stati innanzitati non è successo o non ciò che fa si avanza allora se si arriva e se si avanza a che cosa avanza si avanza si ha non è o business qui abbiamo che questo è questo per la vita dell'islam si avanza si avanza non avanza non avanza si Wirkani essere si si per l'Eso per l'Eso e la Grecia e l'Eso per l'Eso per l'Eso alla l'Eso non è gli significhi con la sottoli sempre non ci sono conosciuto nessun tempo finché perché esclamati perché si esclamati non c'è nessun tempo è questo non c'è barato all'allah pensiero pieni diciamo dell'allaha quella che non c'è si 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 non si si nessuno e si 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 allora ha risato allora ha risato allora ha risato in questo caso è il risato che si chiama con l'allà allora ha risato questo è il buchhari di muslim che è molto affidato e abbiamo visto che è un'altro è che è che se non è se non è l'allà che non è il quattro non è non è che non è una cosa che è successo che il suo lavoro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.